buongiorno a tutti ragazzi oggi siamo qui per un nuovo video in una mappa che si chiama mission impossible insieme al nostro amico francesco che si chiama come me perchè usa il mio telefono per giocare va bene i piedi cominciamo questa mappa intanto sentiamo la usare eh vabbè lo so che non c'è niente aspetta anch'io non c'ho niente e metti in pausa bene siamo qui in questa mappa e vediamo cosa c'è scritto su questi cartelli parla anche tu di qualcosa ciao è più forte ma non con la voce da imbriaco ciao ok è per quanti giocatori questa mappa vediamo per tre giocatori vabbè noi siamo in due e prendi la roba che c'è nella casa va bene e vediamo la casa di giocatori allora basta accidenti si bagga sempre basta allora stiamo a pensate creata da dolfin live comunque sei una povera persona aspetta c'è una casa anche qua c'è una casa che mi piace o niente ho preso solo la stecca ma tu l'hai preso la roba nella fassa di giocatori guarda qua sei sicuro? ma certo devo ehh non fa napoletano non hai preso niente da pesco dico più bello americano Ah, io ti ho fregato quelli che ho tu. Allora, tu sei una persona povera e hai perso la tua casa. Segui le torce. E poi ci muociano i capelli. Ev fu... Oh! Ev fuma, non fanno! Fuma! Oddio ma sto qua si fuma eh! Fuma sto qua! Puoi distruggere i blocchi. Non sa scrivere sto titolo. Is a challenge is too difficult. Regole. Ah, le ho già lette le regole, guarda un po'. Allora, dieci. Qualcosa. Andiamo avanti. Seguiamo queste torce. Orrendo e devo grattarmi. Devo stare in cura. Eh. Seguiamo le torce. e vediamo dove ci portano. Un altro cesto, madonna. E vai, spacchiamo il coso con la carne. Sì, che divertimento. Sì, che divertimento. Alla madonna. Alla madonna. Via. Via. Mi sembri tipo prototipo, mi sembri. Via, mia, mia. Crash. No, larga, non crash. Dai, vieni. Vieni. Non spaccare i blocchi così a caso. E ci credo che qua non passi. E la madonna. Ah, buca. Eh, buca. Eccolo qua. Auguri, sei riuscito ad arrivare. Dai, sali. E salviamo queste torce. Ah, devi scendere. Ho già fregato tutto io dalla cassa. Dai, vieni, vieni. Ma donna, ma... Cosa spacchi? Gli alberi? Cosa cazzo? Perché devi spaccare la roba? E gli artigini. Ma vieni qui, sennò non finiamo più la mappa. Andiamo avanti. No, intanto. Lo lasciamo indietro. Ok. Aiuto. Mi ha laggato un attimo. Ok, il video sta ancora andando. Guarda io. Oh no. È caduto il ponte. Ok. Eh, lagga, lagga. Si è inchiodato. Si è inchiodato. Guarda che roba. Il video sta andando avanti. Si è inchiodato. Aspetta. Dai, devi funzionare. Non proprio nel momento più bello quando devo attraversare il ponte. Sì. Oh no. È collassato. Aspetta. Ti do una mano. Intanto sto al video così. Ok. Giuro giusto. Ok. Sì. Possono usarlo. Aspetta. Possono usarlo. Stiamo registrando da prima. Cioè da prima. Cioè da due. Va bene. Oh no. È collassato. Oddio. Che roba è. È proprio collassa. Grande. Guarda. Mi bagno. Guarda. Vi dispiare. Vai, passa e basta. Poi tornassci un... Hai tornato. Uomo. Due punti. Attaccando. Can we buy your house. A few diamonds dibrazzi... Di ricerito. No, aspetta devo fare la traduzione, vieni qua, dai madonna mamma mia, aspetta, ma sali per le scale, non riesco, pausa, eccoci qua, allora, uomo, che sarei io o tu, o lui, non metterti davanti a Caterina, Allora, posso dire, aspetta, ok, possiamo per spaccare un blocco, potete voi comprare nostra casa, vostra casa, per un po' di diamanti, villager, ma ci ha messo un piccolo di villager, non un villager, Ma fai schifo, ha messo un piccolo di villager, ma, vediamo il carro, ah, boh, aspetta, vediamo un attimo, villager, no, non possiamo, Allora, non c'è capito niente, è fatta malissimo, eh, tu, ah, devi trovare il delfino e ucciderlo, ma dov'è sto delfino? Dio santo che è quello che ho preso, ah, home, home, stai attento alla TNT, la vedi? Ah, ma se mi piace un villager, aspetta, shish, 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 ok, vediamo, shift, e vediamo, ok, c'è dell'acqua più un letto, non so perché, Ok, hai realizzato che è una trappola, vai, go to minecraft, minecraft, outback, boh, vabbè, qui cosa c'è, oddio santo, adesso scoppia tutto? No, scappo, 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 io dove sono? Ok, andiamo avanti, vediamo, ti ho aspettato, eh, io sono con la cartella, sì, e qua ci sono, ah, dei, minecraft, Dolfi, man, and, e tu il casa? No, no, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, accidenti, ma vai dietro la casa, no, magari c'è qualcosa, non so, ecco qui, sali qui, a fare i coperi, ai coperi, c'è farci qualcuno, c'èciones, guardiamo, qua, poi prendiamoci i coperi, sei in un nuovo posto hai realizzato da che ti hanno ammazzato hai trovato la tua casa si senti sul minecart e schiaccia al 200 mila ma verla miseria non salire sul minecart vai così e basta dai un altro che è il destino non esiste abbiamo realizzato ma perchè vado dentro in acqua ma per la miseria della madonna eccomi amico non devi cadere se shifti non cadi ma se non shifti cadi ma di buona guarda vieni qui questo troppo vedi dopo qui si interroga allora tu shifta aspetta o puoi andare anche normali davanti perchè sei migliato un po' aiuta poi qui realizzi che sei muro aspetta non so perché vabbè si fa così dalla lana che c'è tu va bene continuiamo andiamo avanti qua non c'è niente va bene ora ci mettiamo in questa isolotta che stai vedendo che è dolce ti pareva che schiacciavo quel pulsante della madonna che schiaccia sempre? no 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 qui c'è questo isolotto poi non so cosa c'era che cosa c'è? ti vado sull'isle ah si bravo ti ho sull'isle ah si bravo ti ho sull'isle d'orci sto arrivando ecco si mi vede adesso quello di prima ma dai ma che senso ha scusa c'è non ha senso sto ma finiscerà sei morto basta prima no no bravo ho trovato il cartello ho trovato il cartello è quello di prima no no ma più difficolt ma che roba è questa? eh è lo stesso cartello di prima io distruggisco il cartello bravo si distruggiamo abolisco oddio cosa c'è là? cosa ho trovato? era un fiore pareva una una cosa per l'armatura sto distruggendo i cartelli perchè questo ah vabbè ehi tanto i cartelli io torno la devo capirci qualcosa non ha senso sta roba scusa vai la sei morto oddio il villaggio è cresciuto aspetta dov'è la mia arma letale ma muori ma muori ma muori e muore e le muore dove sei scusa? alla casa tu mi trovo c'è anche stato un'altra volta in mezzo agli alberi ci sono staccato sai che c'è anche la marcia indietro? allora siamo già a 12 minuti con questo video che ti hanno ammazzato? tu hai trovato la tua casa? ah hai trovato la tua casa? bella casa e finisce la mappa e finisce qui la mappa ma che schifo ma veramente no? adesso cominciamo non si chiamerà più mind maps sta serie si chiamerà il custom map più questo video è quello di tutti i tempi la serie l'ho chiamata mind maps e adesso noi troviamo tutte le mappe orrende che ci sono su questo intanto mi prendo la tnt eh che bello mi prendo la tnt ma e poi andiamo in creativa e mi chivo un acciarino e ci faccio bam 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 la casa e la vista che questa è la mia casa bella casa mi aiuti? un attimo che devo piazzare 4 tnt nel posto tecnico tattico del mondo e poi se mi puoi chiudere seguisci il fiume ok adesso devo chiudere un attimo il server e ci mettiamo in creativa capito aspetta devo chiudere aspetta devo chiudere aspetta devo chiudere aspetta devo chiudere aspetta 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 ok ho colpito il microfono va bene e adesso prendiamo e mi si incarica no vabbè lo fa così stai calma non c'è niente sei spawnato mi aiuti a trovare adesso sei in creativa puoi volare sali no? ma non così scherzo sul pulsantino per la miseria quello di la questo qui madonna che bello che sei e noi adesso facciamo una bellissima cosa vieni ad assistere alla bellissima cosa vieni dove c'era la mappa ma porca miseria vabbè ok prendiamo il nostro acciarino simpatico carino tutto quello che è 3 2 1 esplosione atomica cavalli scheletri dappertutto che scappare è un po' ho esplodia ma bene mi sono un po' dieg un po' che vuoi fare esplodere? perchè non hai messo dentro? perchè non hai messo dentro? cosa? i tnt aiuto 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 BABABAM non ti fai ma dai le tini ti fanno schifo vabbè spacchiamo tutto a noi buccia vacca va bene per oggi è tutto ragazzi appuntamento al prossimo video mettete Like per vedere il canale commentate io sono stanco perchè sono le 8.33 e Francesco e Mindestruve è tutto di qualcosa ma non è da sbronto va bene ciao al prossimo video non dire nanowak te lo chiamo alla polizia non dire nanowak te lo chiamo alla polizia